L'idea era quella di intrecciare, per quanto è possibile, i temi della storiografia un po' più attuali anche, e una vicenda critica legata al barocco, che è un termine controverso, non è un termine assolutamente pacifico, né come nascita, né tantomeno poi come acquisizione. Nonostante ci siano state descrizioni anche del barocco folgoranti, è ovvio che si tratta comunque di un'etichetta che è stata sottoposta a, spesso, come dire, ripensamenti, a una storicizzazione non facile, eccetera. Quindi il primo punto da cui partire sicuramente è stato quello, la lezione precedente, di ricapitolare un po' questa fortuna incrociata di Bernini e di Rubens e di cercare di capire come i due siano, alla fine, insieme convogliati all'interno di questa etichetta, anche se poi di fatto punti realmente di contatto tra i due è difficile enuclearli. Cioè non abbiamo delle testimonianze stringenti, oggi ne verificheremo alcuni casi, in cui effettivamente si può pensare a un dialogo serrato. Come abbiamo detto, si tratta di artisti comunque sia molto distanti nel tempo, addirittura separati da una morte di 40 anni uno dall'altro, e soprattutto che avevano avuto anche, se vogliamo, un rapporto con la tradizione italiana, abbastanza diversificato, ovviamente diverso, viste anche le date di nascita, quasi di 20 anni di differenza uno dall'altro. Nel caso di Rubens, visto che oggi parleremo di scultura e di pittura, è interessante per esempio vedere come la modernità della scultura italiana per Rubens, resti la Firenze di fine Cinquecento, come abbiamo detto l'altra volta, e sostanzialmente come di fatto il suo soggiorno a Firenze, nel 1600, forse anche con la presenza nel matrimonio per procura di Maria Di Medici Enrico IV, a Firenze, come dire, suggestioni, in qualche modo, l'artista nel ripensare una tradizione fiorentina che è proprio delle ultime, attenta alle voci più, anche più attuali, se vogliamo, della produzione scultoria tardomanierista fiorentina. Questo è un caso, questo è un caso che l'altra volta non abbiamo visto, però è abbastanza interessante, come quando deve ripensare a un linguaggio ufficiale per mettere in scena una parata relativa appunto al trionfio di Enrico IV, questo ciclo un po' fallito, che doveva essere la seconda parte della commissione poi della corona francese, saltata anche per motivi diplomatici, perché avere Rubens a corte non sembrava molto consigliabile, e così via, è logico che addirittura Rubens riesca, come dire, a intercettare come modello, forse anche, uno degli prodotti più recenti che poteva aver incontrato nel suo viaggio di lì a un anno, a Firenze, ovvero, proprio uno dei bassorilievi della statua equeste di Cosimo I, nel piedistallo della statua equeste di Cosimo I, del 1596, proprio svelato nel 1598. E ovviamente non poteva esserli sfuggita, anche se non altro per un'affinità con nazionalità, se vogliamo anche, la produzione di Giambologna, che tra l'altro era stata, ovviamente anche celebrata nella loggia dei Lanzi, quindi con una visione pubblica, importante, e in qualche modo, anche in questo caso, forse annotata e forse considerata. Questo lo dico perché, effettivamente, per una persona che pensava che la modernità della scultura italiana fosse Giambologna, dobbiamo pensare con quanta curiosità e che stacco lui poteva avere rispetto invece a quella che era una tradizione propriamente barocca, come sarebbe stata la produzione di lì a 25 anni con le prime statue borghese di Bernini. Quindi il problema è che, quando la settimana scorsa ci siamo lasciati con questo Rubens che voleva tornare in Italia e che diceva a tutti adesso vorrei tornare in Italia, vorrei cercare di capire come tornare in Italia, eccetera, è interessante perché proprio, come dire, in quel momento quello che avrebbe trovato come scultura era qualcosa di completamente diverso. Cosa poteva saperne di questa nuova scultura romana così importante? Cioè, cosa poteva sapere di quella cosa che viene chiamato appunto Orch Baroc, cioè Alto Barocco, il barocco folgorante, quello del 1630, quello del Baldacchino di San Pietro, di Pietro da Cortona di Palazzo Barberini, per intenderci? Beh, qualcosa forse ne doveva sapere, nel senso che noi vediamo alcuni avvicinamenti di Rubens all'Italia, come se lui cercasse in qualche modo anche di farsi ingaggiare, di farsi conoscere e uno di questi è la lettera che avevo citato l'altra volta, Fabrizio Valguerrera, il quale, nel momento in cui probabilmente la lettera era stata scritta, si trovava in prigione per un traffico di diamanti e per un problema di opere d'arte che erano state date anche in in cambio di questi diamanti che poi vengono addirittura esposte, quindi ci sono esposizioni di 12 opere importanti, di artisti in quel momento importanti a Roma che vengono appunto messe in scena e nel quale questi 12 artisti per esempio si può rilevare come Bernini, come Rubens assolutamente non ci fosse. Un altro di questi tentativi per avvicinarsi sicuramente al mondo italiano può essere questo che è proprio un regalo che lui fa a Susterman, quindi al pittore di ritratti dei medici in questo momento che si trova adesso a Pitti ma non perché lui lo regala direttamente al Granduca, lo regala a questo pittore con una dotissima anche descrizione di cosa significa l'allegoria della guerra che lui sta rappresentando, un'allegoria appunto della guerra e soprattutto con questa annotazione in cui gli dice se per caso il quadro arrivasse rovinato ti autorizzo a metterci le mani. Poi in realtà da Susterman viene acquistato dal Granduca ma con un passaggio intermedio quindi insomma questo Rubens in qualche modo cerca di trovare delle vie del collezionismo italiano ma non facilmente ed è proprio in questo contesto che c'è uno di questi episodi forse l'unico veramente significativo che per così dire avvicina Rubens cioè lo sguardo di Rubens avvicina a Bernini e quasi in una sorta di emulazione questa è come tutti sapete Urbano VIII è il papa poeta cioè autore di poemi tanto in volgare quanto in latino che fa ristampare o vengono ristampati anche per omaggio per tutto quanto il corso del suo pontificato quindi dal 23 fino al 1644 e sostanza alcune di queste edizioni sono anche ovviamente stampate ad Anversa quindi in un circolo vicino in una città dove abita Rubens e Rubens decide di essere come un'altra attività che lui era solito fare disegnatore di frontespizzi cioè lui dava il disegno che poi veniva tradotto a incisione e in questo modo anche si garantiva come dire una fame europea ovviamente attraverso la stampa ecco in questo caso il tema è quello di Sansone che smascella Leone dal quale escono poi queste api che sono tutte emblemi barberiniani il tema delle api ovviamente che è il tema gentili dello stemma così come anche questo tema appunto di Sansone ma soprattutto il modello di riferimento è un'edizione il frontespizzo di un'edizione del 1631 che viene pubblicato invece in questo caso a Roma e che dalla stamperia camerale quindi dal Papa stesso e che può godere di un disegno addirittura niente meno che del giovanissimo del giovane non più giovanissimo perché ha già 33 anni e ormai ha quasi riallestito tutta quanta Roma ed è in effetti un disegno che adesso è conservato a Louvre che è stato passato a questo incisore che si chiama Claude Mellan bravissimo e che sicuramente vista anche la circolazione che hanno le stampe può essere capitato in mano a Bernini con il quale un po' per il tema un po' per la dimostrazione della forza un po' perché echeggia comunque un soggetto iconografico simile diventa un terreno quasi per mettersi alla prova con questo giovane Bernini di cui lui doveva sapere quello che gli veniva raccontato da chi ma probabilmente da questi giovani che si trovavano a Roma e con il quale forse aveva contatto allora l'altra volta ci siamo lasciati con questo nome cioè Duquenois che è un artista di Bruxelles figlio di scultore di Bruxelles che sta a Roma già dagli anni 20 e che di fatto è uno dei tre artisti del barocco romano degli anni 30-40 cioè Bernini Algardi e Duquenois Duquenois ha due qualità tra virgolette da una parte sicuramente quella di essere l'autore della naturalezza dei puttini cioè questi puttini molto la neoveneti giocati proprio come un esercizio per mettere in scena il naturalismo dall'altra parte invece sicuramente un l'altro tema è quello di essere degli scultori presenti a Roma in quel momento il più classico cioè quello la cui per esempio Santa Susanna una chiesa che si trova a Roma in Santa Maria in Loreto è considerata anche da Bellori quindi da un critico classicista della fine del Seicento in assoluto come la statua più simile delle statue barocche all'antico quindi diciamo un artista che ha queste due qualità abbiamo una lettera che pubblica proprio questo Bellori nella vita di Duque Noir che in realtà è una lettera molto problematica probabilmente la lettera o è un falso oppure ha una tradizione comunque anche testuale assolutamente priva di autografie quindi Bellori nel 1672 pubblica una lettera che sarebbe stato scritto nel 1640 in punto quasi di morte da Rubens il quale ringrazia Duque Noir che si trova in quel momento a Roma e lo ringrazia per averli spedito dice i gessi degli due putti dell'iscrizione di Van Den nella Chiesa dell'Animo ovvero di averli spedito i modelli in gesso probabilmente di questi due puttini che si trovano ai lati della tomba che fanno parte del corredo decorativo della tomba di Ferdinand von Van Hayden per molti aspetti questa storia non sta in piedi nell'inventare in morte questi due puttini non ci sono per molti aspetti tutto questo insomma sembra nello specifico non credibile è credibile però il contesto cioè è molto probabile che Bernini avesse delle referenti giovani perché lo dice lo stesso Bellori dei referenti giovani a Roma che gli passassero i modelli quindi ecco che Rubens sa che c'è sicuramente un Bernini lo sa perché ha dei giovani stipendiati pagati a Roma per mandargli i modelli delle opere lo dice questo stesso Bellori che pubblica la lettera relativa a Ducenois e dice oltre le cose da esso disegnate dice Bellori cioè da esso Rubens disegnate copiate in Italia e in altri luoghi e oltre il gran numero delle stampe raccolte di ogni sorte tenne provvisionati alcuni giovani in Roma cioè gli diede i soldi ad alcuni giovani in Roma e in Venezia e Lombardia perché gli disegnassero quanto si trova di eccellente nel comporre e poi se ne serviva di motivo e ne arricchiva i suoi componimenti quindi insomma la descrizione che abbiamo fatto l'altra volta di tutti questi contatti di un Rubens che guarda veramente la produzione intorno al suo trova una verifica anche in questo atteggiamento di Rubens che ormai sta inversa non si sposta più ma che effettivamente teneva addirittura dei giovani provvisionati cioè pagati a Roma per portarli disegnarli mandarli dei modelli di quello che era l'attualità in quel momento delle voci più attuali più importanti della scena artistica quindi sì probabilmente Rubens guardava quello che esisteva in quel momento a Roma di Bernini anche se non era a Roma quindi questo è un punto sicuramente da cui partire però allora a questo punto ci viene un po' da chiedere il contrario cioè e Bernini guardava Rubens e se guardava Rubens che cosa poteva sapere conoscere di Rubens in effetti il punto di partenza ed è un punto importante per molti aspetti proprio anche per un problema di iconografia per un problema anche poi molto come dire calato nella biografia berniniana c'è un'opera l'opera lui è molto probabile che guardasse anche altre opere come per esempio quelle in Santa Croce in Gerusalemme che abbiamo visto l'altra volta che è la prima commissione pubblica fatta da Rubens a Roma però di certo l'opera che se dobbiamo immaginare qui c'è un'espressione anche di Montanari nel libro Il Barocco del 2012 molto bella che dice la lunga miccia di Rubens cioè quest'idea che c'è questo come dire germe quasi di pittura barocca dentro il cuore di Roma ma perché in qualche modo interagisca in maniera veramente fruttuosa con artisti poi romani bisogna aspettare il giovane Bernini cioè bisogna aspettare ancora qualche anno anche se l'opera del 1608 possiamo immaginare che le attenzioni di Bernini appunto furono comunque sia successive di almeno 15 anni però è sicuramente questa un'opera che catturò l'attenzione di Bernini giovane ma soprattutto catturò l'attenzione del Bernini questo è un termine che piacerebbe ai tedeschi dell'Ottocento decoratore di San Pietro cioè quello che doveva in qualche modo integrare architettura e scultura e creare una scultura che decorasse l'interno di San Pietro e per esempio è ovvio che un'opera come la cattedra con diversità di materiali con diversità appunto di problemi da risolvere però in qualche modo echeggiasse anche nelle sue componenti poi iconografiche un'opera come poteva essere appunto la Chiesa Nova di Santa Maria in Valicella possiamo vedere alcuni confronti se non ci crediamo evidentemente questo tripudio di Putti questa cosa quasi di una appunto di una vitalità che riesce in qualche modo a mediare tra un problema veramente di anche vitalità come dire della scultura ma dall'altra parte anche un insignificato poi sicuramente anche di iconologico legato comunque al tema mariano quindi diciamo c'è sicuramente un passaggio per così dire in questo caso anche di scelta iconografica ma c'è anche proprio una maestosità di Rubens quell'idea che poi fa sì che una delle spiegazioni anche se vogliamo di più larga fortuna del barocco sia quella di essere il linguaggio della chiesa triunfante e sì il linguaggio della chiesa triunfante quindi anche quest'idea proprio c'è questa espressione che avevamo l'altra volta avevo detto soltanto in una pausa quindi non so se tutti l'hanno sentita però è abbastanza un'espressione di Longhi che appunto subito dopo la pubblicazione di Emile Malle sulla storia dell'arte religiosa del del 600 nel 1932 nel 34 Longhi dice appunto questi trionfi verso l'Olimpo cattolico che sono trionfi di corpi ma non di anima questa era una descrizione del 34 però è interessante perché una certa maestosità anche per mettere in scena come dire un padre della chiesa di questa maestosità il modello di Rubens non doveva essere stato secondario così come anche nell'idea di appunto aprire quasi teatralmente lo scenario con appunto al centro l'immagine mariana adorata dagli angeli e di fianco però in fondo questi testimoni della fede che trova un parallelo anche in questo caso come dire quasi di dilatazione dello spazio di nuovo in queste figure e poi ci viene anche da chiedere se alcune temi come gli angeli in adorazione che sono sempre di santa della madonna in valicella non siano in fondo un punto di riferimento anche per una delle opere più tardi di Bernini che è il ciborio nella cappella del santissimo sacramento quindi è un modello che serve è un modello che guarda con attenzione perché è un modello che coinvolge lo spettatore quindi è un modello che gli permette di dare una centralità allo spettatore ma anche da questo punto di vista interessante soprattutto che le due opere sono molto più simili di quello che possa sembrare se noi ne consideriamo la funzione cioè come voi sapete la cattedra è una specie di straordinario gigantesco fuori di misura reliquiario per la cattedra di San Pietro che è contenuta all'interno di questa sedia bronzea sostanzialmente che è una specie di reliquiario gigantesco dove all'interno è contenuta la proprio la reliquia che è la cattedra di San Pietro quindi tutta questa costruzione viene innalzata da Bernini per racchiudere questa preziosissima reliquia che di fatto da quel momento in poi esce quasi fuori dallo sguardo dei fedeli perché può essere aperta soltanto con molte difficoltà però è un'operazione che viene condotta a termine in un programma che risemantizza se vogliamo anche la basilica vaticana e che prende l'avvio sicuramente con Paolo V ma ancora di più con Urbano V cioè l'idea che per esempio se noi pensiamo anche c'è un programma visto anche il nome di Paolo V cioè Paolo sia a Petrino ma anche legato a San Paolo ovviamente in San Pietro passa a pensare alla confessione che tiene comunque il culto dei due santi santi legato invece a un certo punto con Urbano VIII si capisce che San Pietro cioè San Pietro che incorona Urbano e Urbano innalza il baldacchino di San Pietro che nei primi progetti comunque è indicato come appunto essendo sopra l'altare dei santissimi apostoli il baldacchino per entrambi gli apostoli quindi c'è proprio una forzatura nei confronti come dire di un'affermazione ovviamente contro riformistica anti perché significava indicare una successione diretta come dire primo è Papa e San Pietro e l'ultimo di questa serie è Papa Regnante che è Urbano VIII quindi questo è già un progetto che inizia a circolare con Urbano VIII quello di mettere a posto la cattedra che si trovava se non mi ricordo male nella cappella del battesimo quindi nella prima cappella sinistra c'è proprio un bisogno di metterla in ordine e poi l'opera viene portata a termine sotto Alessandro VII cioè il Papa che per intenderci è quello poi del colonnato di San Pietro e della chiusura forse anche quello che poi porta in qualche modo a compimento se vogliamo poi la decorazione sia interna che esterna dell'opera quindi lasciando fuori solo il problema della sagrestia che viene affrontato dopo nel Settecento quindi è sicuramente un'opera che ha questo valore importantissimo cioè un enorme reliquiario all'interno del quale si trova questa reliquia considerata in quel momento da un punto di vista simbolico importantissima e anche cultuale cioè ci sono le descrizioni per esempio dei pellegrini che venivano a lasciare magari non so i rosari perché questi a contatto potevano assumere insomma quindi ci sono anche queste descrizioni importanti ovviamente il parallelo è più che evidente cioè noi avevamo detto l'altra volta che il dipinto di Rubens serve per tutelare un'immagine cultuale che è quella di la Madonna della Valicella che si trova appunto sotto questo dipinto e che in occasioni anche codificate viene sollevato viene sollevato la parte centrale del dipinto dove c'è la Madonna col bambino e lasciando vedere sotto quella che è la reliquia quindi in qualche modo è vero che questo sicuramente è stato un riferimento proprio di funzione per Bernini ma c'è un motivo che stringe ancora di più su questo rapporto cioè Bernini ha guardato con attenzione quest'opera oltre perché è sicuramente un'opera fondamentale a Roma di primo seicento anche perché nello stesso momento in cui Bernini Rubens la sta facendo è in corso comunque sarebbe iniziato di lì a poco una delle imprese più importanti della Roma Paolina che impresa è? è la decorazione della Cappella Paolina in Santa Maria Maggiore siamo nel 1610 1614 ed è un'opera che viene assolutamente voluta da Paolo V borghese quindi un'opera che chiama da tutta Italia anche da Firenze da Napoli lo stesso artisti romani che sono presenti artisti scultori che vengono chiamati appunto per decorare l'opera anche in questo caso qui l'opera ha la stessa funzione cioè è la salus populi romani cioè questa immagine devozionale che Paolo V vuole tutelare vuole celebrare tutelare quindi crea commissiona questo straordinario involucro coronato come voi sapete anche dall'immagine del miracolo della neve di Santa Maria Maggiore e di Stefano Maderno quindi è un'operazione tra l'altro bellissima insomma poi anche tutta quanta sulla vancia cioè è veramente un'operazione anche costosissima per i materiali utilizzati nelle altre parti della sala sono sepolti appunto i due pontefici tra cui anche Clemente VIII e a questo punto per noi la decorazione di questo ambiente diventa significativo per due motivi il primo per un motivo che per ora non ci sembra significativo però è bene buttarlo lì metterlo insomma a regime poi ci ritorneremo dopo ed è questo cioè la cupola presenta appunto una decorazione di cigoli che ve lo butto lì è un'attestazione delle lune di Galileo cosa che in questo momento sembra ripeto interessarci anche poco però è un dato importante cioè la rappresentazione avvenuto il Siderius Nuncius nel 1610 viene fatta questa raffigurazione sotto la Vergine in una mioccolata concezione di una luna sostanzialmente spuria cioè non una luna ormai candida ma una luna che ha i crateri e che è stata vista dal telescopio torneremo dopo su questo quindi in qualche modo arriva su questo ambiente grazie anche a cigoli grazie a una presenza significativa di Toscani agisce come dire un tardo manierismo che non è soltanto un problema stilistico ma diventa anche un problema di abitudine per esempio la disquisizione sulle arti come voi sapete tutta la seconda metà del Seicento del Cinquecento Toscano è animato grazie dalla metà grazie a Varchi grazie poi ovviamente alle due edizioni delle vite di Vasari è animato dal problema per esempio di che rapporto c'è tra le arti quale sia il rapporto tra le arti cioè migliore la pittura migliore la scultura e la scultura come bisogna guardarla la scultura allora quali sono le difficoltà dello scultore per cui la scultura si può essere ritenuta superiore alla pittura questo era un clima vivo di agenti animato da pittori soprattutto toscani quindi questa idea che all'inizio del Seicento ci sia un cantiere toscano così vitale anche toscano non soltanto toscano ma con personaggi anche così vitali all'interno di Roma è un passo significativo l'altro elemento che a noi interessa adesso subito invece è il problema di Pietro Bernini cioè il papà di Bernini lavorava in quel momento nel cantiere di Santa Maria Maggiore non poteva non conoscere l'esempio Rubensiano ovviamente visto che il presupposto dell'azione artistica in qualche modo è lo stesso ma allo stesso tempo possiamo immaginare che Bernini che aveva già 16 anni in questo momento fosse il il vero e proprio artista fosse un artista come dire già coinvolto in qualche modo nelle scelte del padre il padre insomma lavora anche realizza anche l'assunzione per un'opera veramente straordinaria per una capacità tecnica incredibile cioè un'opera in cui si vede proprio come Bernini Pietro Bernini fosse straordinario da un punto di vista tecnico ed è interessante ritornare invece su questo esempio il fatto che in questo caso qui per esempio Pietro Bernini una delle primissime attestazioni che noi abbiamo su una delle prime opere berniniane è un'attestazione di Bernini stesso qui si apre un cratere veramente non soltanto l'unano un vero e proprio cratere perché il problema è che Bernini è un grande mentitore cioè Bernini di solito tende a camuffare le proprie origini tende a camuffare i debiti nei confronti del padre fa retrodatare o comunque i suoi figli retrodano quasi tutte le opere per cui lui sembra aver iniziato molto prima di quando in realtà poi le fonti ci dicono poi verificate in archivio che ha iniziato quindi è molto difficile capire a questo punto il problema del rapporto tra padre e figlio che è un po' un problema e quella che faremo oggi saranno tre affondi su tre problematiche che sono abbastanza attuali adesso negli studi internazionali perché è un po' ovviamente anche ritornata alla ribalta con la mostra che voi sapete è appena stata fatta a Villa Borghese e che dovrebbe essere già conclusa che è iniziata a fine ottobre su Bernini in generale sono problemi insomma che gli studiosi di Bernini in questo momento stanno un po' affrontando uno di questi centrale legato anche a questioni poi di fatto di opere che sono state rinvenute recentemente proprio il rapporto di padre e figlio cioè capire fino a che punto questi due collaborassero a cosa avessero collaborato quanto uno ha preso dall'altro e così via in questo caso qui è interessante perché noi abbiamo una delle primissime attestazioni noi abbiamo diverse fonti in cui Bernini allora c'è una fonte bellissima in cui Bernini parla direttamente che è o meglio c'è una persona che dialoga con lui che trascrive le conversazioni con Bernini e è un diario di Chantelou che è un agente che è una specie di maggiordomo che Colbert mette al servizio di Bernini quando Bernini nel 1665 sta a Parigi questo Chantelou prende nota delle conversazioni con Bernini che sono conversazioni ricchissime cioè Bernini parla del suo rapporto con l'antico parla del suo rapporto con la tradizione rinascimentale parla delle sue stesse opere ne dà spesso delle interpretazioni che sono ancora per noi un punto di partenza poi per conoscerle in una di queste come dire confessioni però insomma affermazioni lui dice che in effetti all'età di sei anni cosa non vera perché all'età di sei anni ancora Pietro non stava lavorando alla Cappella Polina aveva fatto una testa in un basso rilievo del padre che gli studiosi hanno grossomodo identificato con il Clemente VIII l'incoronazione di Clemente VIII e che qualcuno ha ritenuto addirittura fosse la faccia del Papa altri hanno detto no perché se era così giovane difficilmente li facevano fare la testa del Papa insomma diciamo che questo è stato un po' indicato come la possibilità del giovane Bernini di esordire in scultura quindi esordisce in teoria appunto stando a questa testimonianza anche lui all'interno di questo di questo cantiere poi anche in questo caso qui la cronologia è abbastanza difficile perché c'è una prima versione del rilievo che viene finita nel 1612 un'altra nel 1614 e quindi sostanzialmente non c'è una cronologia a cui ancorare però quello che è sicuro è che di fatto a questo punto inizia il giovane Bernini inizia a collaborare con il padre allora sicuramente ci sono delle ci sono delle descrizioni di cioè se noi dobbiamo pensare per esempio al modo con cui è stata presentata la produzione artistica berniliana penso ad esempio in un testo come quello di Argana della storia dell'arte alcuni elementi che Argana con grande intelligenza mette in campo sono elementi che restano comunque nel problema poi adesso anche diciamo del dibattito più scientifico internazionale ovvero per esempio l'idea che il ruolo della tecnica ovviamente nella produzione berniliana che è un'idea appunto di un virtuosismo tarnomenieristico di una tecnica cito come artificio che ha un aspetto magico favorisce il gioco dell'ambiguità è tanto più valida quanto più dissimula però allo stesso tempo quindi la morbidezza della seta che però non nasconde di essere marmo e non è seta quindi provoca artificiosamente l'attenzione per il reale e così uccide l'interesse per il reale in altri termini c'è una capacità mimetica berniliana cioè bernini riesce ovviamente a imitare la naturalezza delle cose però allo stesso tempo questa cosa qui è diverso da un naturalismo cioè quindi è un equilibrio che bisogna riuscire a mettere a fuoco tra quello che può essere una capacità tecnica sicuramente che porta alla capacità di rappresentare quello che bernini vuole rappresentare come lo vuole rappresentare però dall'altra parte anche una capacità di prendere le distanze da una descrizione pedissequa della natura e queste parole di Argan vi assicuro hanno un peso soprattutto se messi in una prospettiva per esempio di studi ottocenteschi dove una delle critiche che veniva fatta di più a bernini era sostanzialmente di essere un campione solo di naturalismo che è una cosa molto diversa ed è una cosa da cui ci si distacca per una tradizione tedesca soprattutto alla fine dell'ottocento individuando il barocco come un linguaggio formale a sé stante però che di fatto effettivamente è un problema insomma è uno dei temi importanti nel momento in cui noi guardiamo le opere berniniane ma partiamo dalla tecnica se c'è un punto che per noi è importante è sicuramente il fatto che Bernini ha una straordinaria qualità tecnica dove la prende questa tecnica la prende sicuramente dal padre la prende sicuramente dal padre adesso che lui lo potesse aver descritto a chiara voce oppure non descritto a chiare voci comunque è una cosa che nasce sicuramente dall'esperienza paterna ed è una una osservazione anche che mi sembra significativa perché per esempio recentemente in questa mostra a Villa Borghese è stato portato questo pezzo che è appunto un pezzo che si trova a Bergamo della collezione Zeri lasciato lasciato da Zeri alla collezione all'Accademia Carrara ed è un pezzo in cui sostanzialmente è un bozzetto cioè un bozzetto è come dire un modo con cui l'artista pensa e medita un soggetto una forma però non è in terracotta è in marmo cioè quindi la facilità di questo artista era e questo è il padre era nel riuscire come dire a manovrare il marmo come se fosse cera come se fosse terracotta e voi sapete che c'è un abisso tra lavorare la terracotta che è morbida quindi si fa sostanzialmente per aggiunta ed è molto facile invece se uno sbaglia nel marmo non torna indietro quindi pensate a questo fatto che esista un bozzetto addirittura di marmo cosa possa significare in termini di duttilità nel trattare il materiale ed è questo appunto di partenza di un Bernini cioè Bernini ha una confidenza con il marmo straordinaria con mille addentellati importanti perché se noi per esempio prendiamo un'opera come questa recentemente è stato sostenuto perché non è sempre così facile poi arrivare anche il momento della committenza insomma diciamo anche all'interno di questa mostra per esempio è stata proposta una cronologia molto tarda cioè rispetto tarda rispetto a cosa se quest'opera qui è del 1622-23 vuol dire che è stata fatta dopo la morte del pontefice perché il pontefice muove nel 1621 allora perché è stata proposta una descrizione una cronologia così tarda forse anche alla luce del fatto che potrebbe essere un regalo un dono come dire di Bernini a questo committente che poi vedremo dopo che è Scipione Borghese cioè il committente che poi gli darà la commissione per le tre statue quattro statue poi una insomma con varie vicende che si trovano adesso poi alla fine alla Galleria Borghese ma se noi vogliamo quindi pensate questa persona questo giovane che comunque sia ha 23-24 anni aveva un marmo tale da poterlo lavorare e donare lui stesso anche se questo è veramente un gioiello di marmo perché è un bustino da tavolino meraviglioso piccolo di piccolissime dimensioni certo che allo stesso tempo un altro episodio come dire di facilità anche nel poter lavorare il marmo ma nel poter essere autonomo anche in questo che rimane sempre un vincolo per lo scultore perché il marmo è uno strumento costosissimo è un materiale costosissimo quindi molto spesso la difficoltà soprattutto in questo momento cioè prima di una rivoluzione post-neoclassica in cui il gesso risolveva come dire la fase creativa e poi se qualcuno trovava i soldi per tradurlo in marmo bene però intanto la fase creativa era scissa però in questo momento invece no nel 600 bisognava avere un committente e non era facile ed erano processi costosi e così via quindi questa è una statua che dimostra ancora quell'idea appunto di un'officina berniniana di grande attenzione di grande utilità nei confronti del marmo perché perché è una statua che Bernini fa per se stesso cioè è una statua di tre metri Bernini la fa per se stesso nel senso che nel momento peggiore della sua carriera cioè quando sono stati distrutti i campanini di San Pietro e poi comunque inoscenzo decimo non lo chiama più perché era troppo vicino a Urbano ottavo e lui si lamenta insomma viene accusato di essere stato boicottato e così via ecco che dunque lui immagina un gruppo che noi sappiamo da un disegno invece più tardo di essere insomma da Bernini ma non è di Bernini immagina un gruppo in cui c'è la verità che è svelata dal tempo quindi quest'opera in realtà doveva avere un tempo sopra altrettanto grande il marmo c'era era nella casa di Bernini quindi insomma il progetto era poi l'opera come voi vedete per esempio non è finita perché insomma ci sono ancora qua si vedono i pontelli o anche qui nelle dita insomma è un'opera non finita lui non la finisce e in realtà da poco dopo inizia a fare la fontana dei quattro fiumi insomma quindi l'opera rimane lì e lui però la lascia i suoi eredi con vincolo di tenerla e soprattutto di far vedere quello che è stato un problema della sua vita e una cosa appunto di lasciarla anche invisibile in qualche modo infatti l'opera resta a lungo nella casa di Bernini a Roma una casa che si trovava prima in via della Mercede poi a metà ottocento gli eredi si trasferiscono al corso e l'opera della verità li segue sia prima in via della Mercede dove viveva anche Bernini sia poi al corso a Roma e proprio in via della Mercede nel palazzo Bernini in via della Mercede che è un francese probabilmente all'inizio del settecento lui vive fino al 1777 vede il vede il quest'opera che adesso si trova a New York è un fauno molestato da dei puttini che rappresenta un po' è stato un po' come dire un terreno di battaglia per capire le responsabilità di padre e figlio cioè questo è stato veramente per queste e per altre due o tre opere che vedremo oggi uno dei problemi un po' degli storici dell'arte che qualcuno come non so Jennifer Montague per esempio ha risolto con grande un po' anche ironia dicendo citando un aneddoto che è presente una scena che è presente proprio dentro al diario di Chantelou dove Bernini ha un figlio che si chiama Paolo Paolo sta facendo un basso rilievo ogni tanto il padre andava e dava qualche colpo quindi come dire è anche difficile in un contesto di bottega di padre e figlio riuscire a identificare i debiti detto questo però potete anche immaginare che da un punto di vista poi anche ubicamente di mercato se è del padre o del figlio la differenza può essere invece notevole comunque questa è un'opera che è probabilmente un momento di apice di collaborazione tra i due è un'opera che dimostra una qualità tecnica straordinaria per esempio anche nel modo con cui se vedete nel modo con cui si può lasciare così non lucidata la parte del tronco sono modi per esempio per catturare qualità diverse di luci quindi non è una cosa semplicemente che l'opera è descritta perché quello è ruvido è proprio un discorso anche comunque sia di questo tipo e poi evidentemente anche se noi per esempio vediamo testine queste due confronti tra appunto il putto che molesta il satiro sotto e i due putti che molestano il satiro sopra è interessante perché a prima vista si capisce che comunque sia il modello anche diverso cioè sono proprio due testine un po' diverse adesso se dobbiamo anche noi come dire esercitare l'occhio su questo tema di cosa è padre e cosa è figlio evidentemente si tratta comunque sia forse sono due mani diverse chi lo sa o comunque sia sono state rapportate per così dire meglio sono state rapportate a due opere distinte una è sicuramente il un putto con drago che è questo qui che adesso si trova al Ghetti che è stato anche questo una acquisizione degli ultimi degli ultimi decenni comunque del corpus di padre di figlio forse più vicino al padre se poi guardiamo invece l'altra testina sembra abbastanza vicina invece a questo putto che viene morso da un da un pesce che si trova al bode quindi in qualche modo possiamo notare come dire come forse qualche attenzione diversa c'è poi però in quella che ripeto è probabilmente uno dei punti più vicini più più coordinati di collaborazione tra il padre dal figlio poi è interessante perché come dire il figlio prende spicca il volo il padre continua a fare un po' le sue cose ed è interessante anche vedere come dire il dopo del padre rispetto invece al figlio che sta prendendo altre direzioni com'è che un figlio però si può emancipare da un padre tanto bravo perché Pietro Bernini è veramente uno scultore di una qualità straordinaria cioè l'assunzione della Vergine è un'opera veramente riesce a descrivere dei particolari come per esempio in Eio fa anche trovate materiche intelligentissime per esempio nel giocare appunto come dicevo sulla qualità della luce che riesce a catturare il marmo oppure no come ci si emancipa da tale padre allora probabilmente con l'ego di Bernini andando subito all'origine cioè puntando fin da subito ai grandi maestri ovvero Michelangelo che il giovane Bernini in qualche modo riesca a rinnovare anche i modelli paterni ricorrendo a uno studio di prima mano di una tradizione cinquecentesca italiana è una cosa un po' evidente anche di più rispetto a questa anche in altre opere è una cosa che però ci viene testimoniato da un'altra di quelle fonti berniniane fondamentali che è oltre al diario di Chanteloup che è La vita scritta di Giovanna Lorenzo Bernini scritta da Domenico Bernini che è il figlio pubblicata nel 1713 sicuramente una delle fonti più importanti per la ricostruzione delle opere della biografia berniniana ed è una di quelle fonti in cui appunto nel 1600 cioè viene descritta la formazione del giovane Bernini e dice ne fu in lui minore lo studio delle pitture per esempio questa importanza oltre che della scultura anche della pittura quindi questo rapporto qui è meno assurdo di quello che potevamo immaginare c'è un Michelangelo scultore c'è anche un Michelangelo pittore dice né in lui fu minore lo studio delle pitture non tanto per quindi apprendere la maniera del colorire e ciò che pare qualità più propria del pittore quanto per ricavare da quelle rare figure con cui viene freggiata ogni camera del Vaticano il disegno e l'espressiva di esse che poteva a lui servire per attributo della scultura quindi da una parte appunto il disegno e dall'altra l'espressione direi e smidollò smidollò è un termine bellissimo in guisa tale non solo le stanze quindi smidollò vuol dire che passò proprio le ore cioè tolse il midollo andò fino in fondo lavorò proprio di copiatura vera insomma smidollò in guisa tale non solo le stanze quindi Raffaello e le logge dipinte da Raffaello ma anche il giudizio del Buonarrote la battaglia di Giulio Romano quindi la sala di Costantino e le opere di Guidoreni Guidoreni che in questo momento aveva fatto effettivamente per Paolo V delle stanze del Vaticano che sono affacciate sul corridoio del Belvedere e danno verso l'interno dei giardini vaticani ma delle figure stesse di cui sono composte quelle gran pittura e ne ritraste in ogni parte al disegno e di ogni disegno tante copie che chi ne rimira gli innumerevoli sbozzi che in buona parte rimangono presso il compositore di questo libro cioè presso il figlio e dopo l'affermare che un uomo in lungo corso di vita non avrebbe potuto tanto osservare con gli occhi quanto i disegnò nello spazio accennato di tre anni nei quali ancora come si disse lo studio fu principale il suo principale fu l'osservazione dell'antica scultura quindi il Vaticano in questo momento gli offriva tutto i modelli antichi cioè l'Apollo del Belvedere il Laocoonte ma anche le pitture di Raffaello e di Tiziano ecco dunque che in qualche modo questo tema per esempio Michelangelesco emerge emerge anche in un'opera ancora di più come questo San Lorenzo che è una delle opere giovanili di Bernini pre diciamo borghese ed è un'altra di quelle opere che ci chiude un po' il cerchio su quella dimestichezza di Bernini perché poi leggeremo una descrizione per esempio sempre di Domenico che ci dice che questa la fece un po' per suo quindi un ragazzino perché è nato nel 98 quindi di 18 anni che prende un pezzo di marmo e fa una statua in onore del suo santo di San Lorenzo e crea questa composizione dall'altra parte altri episodi appunto ovviamente di citazioni michelangelesche non si fanno mancare però è anche importante appunto capire come dire in questo momento cosa sono le attenzioni berniniane e su questo la biografia di Domenico tiene in piedi un po' tutti e due i piani cioè da una parte sicuramente uno studio della tradizione dall'altra però fa una descrizione di questa statua proprio quella di San Lorenzo molto attenta e con un aneddoto che è diventato poi famosissimo ovvero per rivoluzione del santo di cui portava il nome volle ritrarre in marmo San Lorenzo in atto di essere abbruciato nudo sopra la graticcia e per rappresentare equamente nella faccia del santo il dolore del martirio e l'effetto che far doveva il fuoco nella di lui carne quindi niente di niente di legato a una tradizione figurativa non c'è il filtro in questo caso della cultura lui vuole vedere com'è il dolore vuole vedere com'è l'effetto del fuoco sulle carni e si pose egli medesimo con una gamba e coscia nuda sopra la braggia accesa per poi venendo a provocare in sé il martirio del santo ritraeva poi con l'apis alla vista di uno specchio i dolorosi fonti della sua faccia osservava i vari effetti che facevano le proprie carni alterate dal colore della fiamma altrettanto più degno dell'antico scevola quanto che questi sottopose la mano al fuoco in pena di aver errato e il nostro Gian Lorenzo Giovan Lorenzo si abbruciò le carni per desiderio di non errare quindi cioè lui non voleva errare cioè voleva rappresentare veramente il dolore vero e quindi fa questa cosa sopraggiunse a caso Pietro suo padre e veduto quindi manierista avrebbe da dire quello che ferma però e veduto il figlio in quell'atto di martirio e risaputa nelle cagioni teneramente ne pianse scorgendo in esso ancora tenero e giovane in età di 15 anni un desiderio così grande della virtù e per giungervi ritrasse in sé il tormento di un San Lorenzo vero per riscolpirne un finto quindi insomma la finzione inizia qui anche un tema e questo suo primo parto di devozione riuscì ancora tanto gradito alle aspettazioni delle genti che il medesimo cardinale nepote del papa cioè Scipione Borghese in questo momento fu due volte a vederlo nella di propria di lui casa quindi questo giovane che appunto si mette alla prova mette alla prova alla natura anche su se stesso per arrivare a un'espressione che non è filtrata dalla cultura e che allo stesso tempo però passa ogni momento quando è libero a correre in Vaticano a raffigurare le opere ovviamente è un Bernini che sa usare gli strumenti della tradizione quindi ecco che qui voglio dire ritorna a quel tema con cui ci siamo lasciati la settimana scorsa cioè di un tiziano che è importante importante per tutti in questo momento è importante per i pittori è importante per Pietro da Cortona è importante per Duc Noir è importante a Roma perché arrivano appunto i baccanali i baccanali sono visti dai pittori i pittori in qualche modo imparano come dire a ritornare a essere naturali anche guardando questo tiziano però per Rubens in questo momento ovviamente è importante anche per Benini in questo momento è importante anche l'esempio di Rubens per esempio ancora una volta perché? perché sicuramente nel mettere in scena il sacro come potrebbe essere questa Santa Bibiana del 1626 un caso come quello effettivamente di Rubens rimane il modello più vicino un modello forse più convincente insieme a una tradizione però ovviamente regnana per lo sguardo per esempio della fanciulla che guarda verso l'alto e anche in questo caso qui se poi la si vede da vicino addirittura con una sprezzatura quasi neoveneta cioè le braccia che adesso è stata restaurata la statua per esempio si vede che proprio la stoffa con cui è fatta la manica della Santa è quasi quasi uno sbozzato rispetto per esempio a una raffinatezza di lisciatura di levigatura che può essere in altre parti in questo caso qui è anche vibrante ancora per un discorso di luce quindi è interessante perché e questa è un po' la statua come dire per noi è molto importante questa statua perché è una statua del 26 cioè chiude come dire il ciclo della Borghese ed è anche stato questo uno dei motivi per cui è stato comunque chiude il ciclo della Borghese però che si chiude sostanzialmente con la Poledafne nel 25 dall'altra parte è la prima opera pubblica berniniana perché Bernini in questo momento di questa chiesa che è Santa Bibiana realizza sia l'architettura che poi la statua sull'altare e soprattutto e non sembra scontato è un'opera nel suo contesto cioè questo detto così adesso un'altra di quelle cose un po' come il Cigoli e il Galileo lo teniamo da parte comunque non diamo per scontato che è sempre così facile vedere le opere nel loro contesto in questo caso qui quest'opera è in un contesto che è rimasto quello berniniano cioè è rimasta lì è rimasta con l'impaginazione di Bernini è rimasta lì con l'impaginazione con la regia con l'architettura voluta da Bernini e ne siamo certi cioè su questo siamo certi quella invece su cui siamo meno certi è sicuramente un'opera come la Capra Maltea l'opera è comunque considerata la prima opera di Bernini recentemente invece sono stati esposti dei dubbi sull'autografia dell'opera se noi vogliamo fare il giochino di prima effettivamente questa testa non lo so io sarei più per toglierla però insomma comunque però al di là se tenerlo lasciargliela l'opera e quindi ovviamente anche qui non ho messo la data perché dipende molto da se l'autore è davvero lui oppure se non è lui però perché può essere di solito viene anche citata subito come l'opera che dimostra l'ellenismo tutti in questo momento erano neoellenici per fare questi soggetti cioè non era una peculiarità berniniana però perché quest'opera è affinita in mano a Bernini cioè per quale motivo quest'opera è stata ritenuta un'opera di Bernini è un'opera importante nel senso è un percorso un po' un po' particolare fino al 1926 nessuno pensava che quest'opera fosse di Bernini cioè pensavano che fosse un'opera di fine 500 primo 600 di uno scultore non antica però comunque sia non berniniana l'opera si è sempre trovata dentro la galleria borghese probabilmente prima di tutte le altre opere berniniane questo è vero cioè è sempre stata insomma è stata già da subito probabilmente la borghese è comunque ricordata senza problemi ma anche senza attribuzioni berniniane fino al 1000 e ancora per tutto l'800 negli inventari della villa e e anche e viene attribuita invece a Bernini soltanto nel 1926 da Roberto Lunghi perché perché vi ricordate quel ragazzo giovane che era andato in giro insieme con Rubens a quale Rubens aveva detto sta attento perché comunque sia Caravaggio ha preso cose da Holbein eccetera era Joachim von Sandrath un pittore che passa in effetti a Roma negli anni 30 nei primi anni 30 è spesso la borghese dove vede sia le opere di Bernini sia le opere antiche presenti alla borghese che era la vera meraviglia poi della villa cioè la collezione che adesso si trova in gran parte a Louvre che era appunto la collezione antica della collezione borghese messa insieme da questo straordinario mecenate che è Scipione borghese quindi Joachim von Sandr dopo aver parlato con Rubens arriva in Italia va alla borghese e dentro la borghese annota in un passo del suo testo che per molti anni rimane scritto in tedesco e ha una traduzione antica in latino quindi non è proprio la fonte che subito viene intercettata in Italia durante l'Ottocento viene intercettata in Italia nel 26 perché nel 25 esce l'edizione tedesca moderna con annotate tutto Longhi che è un grandissimo lettore anche oltre che un straordinario insomma conoscitore riesce la sfoglia e si accorge di un passaggio all'interno di questo testo perché Sandrath viene in Italia e poi scrive un trattato sulle cose che ha visto quindi è questo il passaggio scrive un trattato un po' più tardo e descrive appunto che lui ha visto una una dentro la villa dice praticamente vede tre opere di Bernini e dice anche primum erat figura at quedam e marmore albo nodoso cioè la prima era una figura praticamente di marmo nodoso cioè questa idea appunto cioè l'idea appunto di ricordarsi che si tratta e dice appunto dove due fanciulli baccanti e una capra stanno bevendo il latte quindi sostanzialmente questa fonte tedesca questo viaggiatore tedesco annota nel suo trattato che ha visto la galleria borghese questa capra amaltea e che l'autore ne sarebbe Bernini altre fonte in realtà poi seicentesche romane contestuali non lo dicono quindi questo è uno forse dei più grandi problemi però Longhi ha letto il passo l'ha valorizzato e da quel momento lì si è ritenuto che questo fosse l'inizio come dire dell'attività berniniana questo anche per farvi capire come poi è anche difficile considerate che Longhi lavorava in un momento in cui per esempio né il puttino del Bode né il puttino del Ghetti erano ancora stati scoperti quindi insomma non è così è anche comunque il satiro e nemmeno il satiro del Matt quindi sostanzialmente si tratta di una acquisizione che adesso un po' insomma sta creando dei problemi non tutti più accettata però è interessante vedere la percezione che questo viaggiatore seicentesco ha delle statue di Bernini per esempio in questo caso qui nota appunto che il marmo è nodoso in effetti è un marmo spuri un po' sporco un po' macchiato e l'altra cosa che invece nota è che per esempio c'è il marmo similiteralbo del David cioè lui nota per esempio che il David ha un bianco ha un bel bianco similmente bianco però non è più nodoso quindi è un bianco come dire un po' migliore però rimane sempre un bianco anche in questo caso qui solo come un passante vi faccio vedere comunque un tema abbastanza di confronto che è il fatto appunto di questa attenzione alla pittura che ritorna e sicuramente una delle voci fondamentali è Annibale Carracci questo è sicuramente anche perché noi siamo partiti dalla cattedra come voi sapete c'è uno dei grandi cioè Bernini stesso in qualche modo che invoca come un suo santo protettore Annibale Carracci nel dire che quando era giovane lui andava in Vaticano a studiare le pitture aveva incontrato Annibale Carracci il quale gli aveva detto che due problemi erano da risolvere in San Pietro uno era quello della crociera cioè il baldacchino e l'altro era quello della tribuna cioè la cattedra e il giovane Bernini dice ma forse sarò io quello che mi risolverò quindi insomma c'è anche questa investitura che viene raccontata poi dalle fonti biografiche quindi insomma c'è sicuramente questo tema appunto del David e poi sempre il nostro tedesco questo Joachim von Sandrath che invece fa un'osservazione non per nulla banale cioè il marmo invece della Daphne è candidus cioè questo è bianco brillante e in effetti è un marmo di polvaccio cioè un marmo di una qualità straordinaria quindi anche questa idea appunto di una percezione di questo marmo della pole Daphne che è di una qualità a questo punto veramente e in effetti anche c'è da dire l'ultima poi di queste opere che viene fatta dal Borghese è l'opera forse tra virgolette di un illusionismo più sfrenato e anche di un virtuosismo più sfrenato e sicuramente la percezione era quella anche proprio per la capacità poi materi cioè di lavorare il marmo di Bernini anche questo lo vedremo poi meglio in un passaggio cioè voi dovete pensare che questo lavorava con la materia ma anche con la luce poi e questa cosa qui è un passaggio fondamentale però se noi riusciamo però a ricostruire quello che un po' prima accennavo le condizioni originali di frizione delle opere che non sono sempre scontate allora andiamo avanti quali è che mancano come opere beh per esempio manca le Neanchise e Ascanio in fuga da Troia che però è un'opera che per esempio il nostro Sandrath cioè questo nostro viaggiatore tedesco riteneva fosse del padre e a questo punto la nostra fonte tedesca non ne cita altri cioè cita sostanzialmente la Capra Maltea cita le Neanchise in fuga da Troia cita il David e cita la Pole Daphne a questo punto il problema ne manca una ovviamente e quella che manca è la Ratto di Proserpina che però in effetti il nostro tedesco d'inizio degli anni 30 il nostro Joachim von Sanda non poteva vedere la Galleria Borghese perché l'opera non era in quel momento la Galleria Borghese cioè noi anche adesso abbiamo una percezione della Galleria Borghese come un museo berniniano ma ha avuto dei momenti anche di contrazione in cui di opere berniniane ce ne erano molto meno di quelle che vediamo ora ed è stata una costruzione di primo novecento quella di avere un museo di qualche modo a Roma dedicato a Bernini in questo momento invece il Ratto di Proserpina che aveva avuto una commissione borghese però poi era stato regalato a Ludovisi perché nel 21 era morto Paolo V era diventato Papa Gregorio XV che era un Papa Ludovisi quindi il Cardinal Nepote passato regala al giovane Cardinal Nepote un'opera quindi c'è questo passaggio diciamo di consegne quindi regala un suo berniniano allo stesso tempo intercette invece sul mercato come dire il David che non era destinato invece alla Galleria Borghese ma era destinato a Villa Montalto da cui proviene un'opera che adesso si trova a Vittorio e Albert che è il Nettuno e intercetta come dire il David che è in fase di lavorazione e questo è il motivo per cui se noi vediamo la cronologia la Poledafne è l'opera più dilatata nel tempo perché viene iniziata su commissione del Cardinal Scipione poi a un certo punto viene interrotta quando viene intercettato il marmo che doveva essere destinato a Villa Montalto ma muore il Cardinal Montalto quindi Scipione Borghese subito come dire se lo porta in Villa viene completato il David a quel punto viene completato anche la Poledafne ovviamente con diversità poi perché insomma questa è più o meno la ricostruzione della cronologia in tutto questo la costruzione ovviamente a questo punto porta a una questo per esempio a alcuni particolari del rato di Preserpina che portano anche che un po' fanno anche emergere secondo me e credo che insomma anche queste attenzioni particolari di Bernini per fonti che poi sono diverse cioè se noi per esempio pensiamo a una fonte come la Poledafne non possiamo che pensare anche a un dialogo più serrato con l'antico cioè l'Apollo che per esempio sta rincorrendo la Dafne è sicuramente una figura come dire che sembra quasi mettere in movimento poi di fatto l'Apollo del Belvedere se invece vediamo una figura di una cronosità e di una traduzione come dire di carne morbida come quella della Daf dell'Apollo della Proserpina è difficile non pensare che già non agissero per esempio dei modelli comunque sia magari rubensiani o comunque di una cronosità più veneta forse cioè l'impressione che Bernini in qualche modo in questo momento mette anche alla prova gli strumenti del suo mestiere ci sono e sicuramente poi ottenendo anche delle qualità straordinarie che avranno una fortuna per esempio questa testa di Plutone è una delle teste forse l'unica che strappa un sorriso a Leopoldo Cicognaro all'inizio dell'Ottocento quando Bernini era visto peggio che se fosse stato insomma peggio del demonio cioè ovviamente però questa testa lavorata con questi capelli con questo quasi naturalezza questo modo di tenere aperta la bocca è sicuramente una cosa che in qualche modo come dire la tecnica di Bernini resta come dire anche un valore positivo nel giudizio anche se poi ovviamente diventa un'arma a doppio taglio perché alla fine si accusa Bernini per esempio nell'Ottocento di essere solo tecnico ma non che cosa ma forse non artificioso proprio cioè paradossalmente le due cose vengono un po' cioè quel naturalismo che viene assecondato dalla tecnica per cui c'è l'accusa di fare quasi il fil di ref quell'idea di riuscire a rappresentare il bottone che si apre e questo nell'Ottocento viene visto così ma non si capisce invece un altro aspetto fondamentale cioè la capacità sintetica di Bernini cioè questo è l'aspetto veramente in qualche modo come dire in cui il naturalismo di Bernini trova il suo contesto legittimo a questo punto infatti come dire abbiamo presentato un po' le opere e cerchiamo di mettere a punto la seconda parte cioè due spedienti che fanno sì che Bernini non sia semplicemente l'abile tecnico che riesce a mettere in scena quello che vuole far vedere ma riesca in qualche modo anche a creare un artificio una costruzione artificiosa un'operazione proprio di arte non di natura allora a prendere possibile tutto questo è ovviamente l'abbiamo già citato adesso lo vediamo il cardinale Scipione Borghese Scipione Borghese significa sostanzialmente un mecenate importantissimo cultore dell'antico e in questo in questo ritratto voi vedete il duplice ritratto perché sapete che poi il marmo era stato rotto a un certo punto andando avanti era venuta fuori la vena allora a quel punto Bernini in fretta e furia era riuscito a rifare il marmo identico e tutti i due i busti sono adesso si trovano alla Borghese questo è un particolare anche proprio di dettaglio per così dire del volto di Scipione su cui torneremo dopo allora per capire quel discorso che facevamo prima credo che un punto di partenza sia una cosa di questo tipo la foto non è delle migliori però penso che sia eloquente cos'è che emerge in qualche modo da questa veduta che è abbastanza singolare la torsione sì la torsione è vera però c'è qualcosa che emerge in realtà che è strana una parte in realtà è stata finita dopo addirittura questo calcagno qui è completamente fuori dalla linea del marmo e in effetti se uno si avvicina vede che questo calcagno qui è stato aggiunto dopo cioè è un pezzo di gesso credo insomma adesso non so ed è stato aggiunto allora perché cioè perché noi abbiamo una statua in cui c'è un calcagno aggiunto e ma Bernini ha finito il marmo c'era una vecchia battuta di fine seicento in cui dicono Bernini addirittura erano finite le cave di marmo che lui non sapeva finire le opere in realtà no ma il problema è che allora ci viene un'altra domanda da chiedere se questo calcagno non era stato previsto se questo punto fa vedere appunto come dire che manca che il blocco il blocco finiva prima Bernini sapeva fare la Daphne è difficile pensare che non sapesse calcolare l'ingombro di una figura umana dentro allora il problema diventa diverso ma era vero che noi che come nella tradizione di fine cinquecento quella per intenderci da cui era partito Rubens da quello che Rubens considerava l'ultima voce l'ultima è vero che bisognava girare intorno oppure no questo è il grande problema cioè a questo punto il problema rimane se come dire le statue bernignane fossero statue che pretendevano come quelle di Giambologna una visione a tutto torno ecco che quindi quel problema che dicevamo prima è un problema che ritorna e cos'è che significa significa che quella disquisizione sulle statue che veniva fatta alla fine del cinquecento in Toscana cioè il fatto che per esempio c'è il dibattito su come bisogna raffigurare una statua stante allora sapete c'è Cellini che dice no bisogna avere tutte le visuali mille punti addirittura poi in realtà l'opera appunto messa in scena in questi temi cioè l'opera che pretende uno spettatore mobile che gira intorno è come dire un apice della tradizione è un apice della tradizione è un apice della tradizione toscana di fine cinquecento tanto più che noi abbiamo pensate un po' addirittura delle stampe di fine cinquecento in cui raffigurano la statua da tre punti di vista perché non c'è un solo punto di vista e questo è Giambologna l'idea è anche quello del bronzetto che uno tiene in mano e gira ma l'idea è anche quella di un Rubens che quando vede l'antico gira intorno all'antico perché la scultura moderna lui più vicino l'ha insegnato che si deve guardare la scultura così girando intorno a questo punto se noi rivediamo un attimo velocemente anche se sotto c'è un'immagine che non deve esserci è vero anche che in realtà per intenderci Bernini una visione di questo tipo per la sua opera non l'aveva mai prevista perché? perché l'opera era addossata al muro questo è il motivo per cui non aveva il calcagno perché era in una nicchia ed era addossata al muro quindi era un'immagine che doveva essere vista da un punto di vista privilegiato e che addirittura se voi vedete il Davide alle spalle è completamente privo di rifinitura sulla schiena quindi non solo non ha il calcagno ma anche privo di rifinitura sulla schiena allora cosa significa? significa che l'opera non è un'opera da girarci intorno e questo ha conseguenze molto significative perché se voi pensate tutto l'ottocello ecco andiamo avanti a questo punto ma chi è che ha tirato fuori chi è che ha per la prima volta spostato dal muro un'opera che era destinata a stare nel muro in realtà la trovata è questa cosa qui cioè nel 1785 viene in mente che c'è un riallestimento della Galleria Borghese è un riallestimento diciamo tra il neoclassico fine Roccoco insomma un momento di trapasso anche molto bellissimo se vogliamo e la stanza per celebrare Bernini viene dedicata a tutti a temi uvidiani quindi proprio nel soffitto viene raffigurata la pole Daphne e siamo nel 1785 nel 1785 ancora le critiche di Winkelmann quelle che iniziavano a montare non erano arrivate proprio cioè si sentivano come dei tuoni di guerra in lontananza però ancora non era diventata l'accusa prima quindi Marco Antonio Borghese discendente di Scipione Borghese pensava di avere probabilmente è lontano parente non discendente di Scipione Borghese pensava probabilmente di fare un piacere a Bernini nobilitandolo come aveva fatto per tutte le altre statue antiche della villa e quindi come per non so il gladiatore borghese che adesso è a Louvre o per Elena Enchi forse non mi ricordo se era stato isola la statua cioè la pone al centro della statua della stanza dedica una statua quasi interamente all'opera tematicamente costruisce un ciclo intorno all'opera e sposta la statua al centro dell'opera allora a partire dal 1785 la pole d'afne non si trova più accostato al muro uno dei problemi più grandi per gli storici dell'arte negli ultimi 50 anni è stato cercare di capire qual era la posizione originale di questa statua perché non è così scontato ma la cosa più interessante è stata che addirittura è stato necessario riscoprire i documenti per convincersi che l'opera non fosse stata destinata a essere vista da tutti i punti di vista cioè soltanto quando se mi ricordo male negli anni 50 hanno scoperto proprio la descrizione della base quanto distava dal muro allora ci si è resi conto che effettivamente già qualche storico dell'arte l'aveva detto prima aveva detto guardate che però Bernini non è un artista cui si gira solo intorno bisogna vedere quali sono i suoi punti di vista se ha dei punti di vista privilegiati non è detto che siamo nella tradizione tardomanierista questo è qualcosa di diverso in effetti comunque sia questa operazione di spostare la statua dentro la stanza è un'operazione che è stata fatta nel 1785 e abbiamo anche delle descrizioni molto curiose perché in realtà allora io diciamo l'ipotesi più probabile è che la statua fosse giratela verso mettete praticamente girate la pollo che si ha di schiena e retrocedetelo verso qua vedete? si vede? allora vediamo un po' si vede qual è il puntatore? il puntatore? è questo qui però non so come si usa però c'è il puntatore o non è il puntatore? aspettate vediamo se come posso fare io? c'è un altro devi indicare una parte allora se devo uscire e entrare da questa modalità in modo che uso la mia mouse semplicemente si può fare? vuole uscire dalla presentazione no no per carità va beh allora vi indico con i gesti che non è molto allora immaginate come se la allora il lato è quello verso le finestre ok dove adesso c'è la statua della venere di Cap sostanzialmente e una delle ipotesi più probabili è che l'opera fosse girata portando la schiena del David contro il muro cioè la schiena del David avrebbe dovuto essere contro il muro per intenderci l'immagine più verso di me era la veduta dell'opera che non si sarebbe dovuta vedere questa è stata una delle ipotesi insomma che è stata fatta allora cosa significa questo? a me è una testimonianza molto carina dell'autore dell'ingrandimento della base perché ovviamente nel momento in cui tu sposti un Bernini da un luogo comunque di sicurezza cioè accanto a una parete lo metti nel centro di una sala forse l'idea di rifare una base un po' più solida viene ed è stata fatta però il problema è che il primo gesto più intuitivo era stato quello di spingere probabilmente semplicemente la statua all'interno dell'ambiente cioè se io ho una statua con la pollo che mi dà le spalle lo spingo e in teoria non dovrebbe cambiare niente invece c'è l'attestazione di questo restauratore che si chiama Vincenzo Pacetti che doveva lavorare sulla base che trova tutti disperati dentro la villa perché dice dicono che Bernini non funziona più non funziona più bene cioè non si riesce a leggere più bene allora cos'è che probabilmente non si leggeva bene? non si leggeva bene il fatto che se noi immaginiamo che davvero la pollo aveva le spalle al muro quello che diventava più significativo era il controluce per esempio proprio della trasformazione della Daphne cioè le foglie come dire della Daphne della pole Daphne venivano a trovarsi paradossalmente in controluce rispetto alla finestra quindi era come se l'immagine era quella come di un Apollo che usciva fuori dal muro insieme a inseguire questa ninfa dentro una radura straordinariamente soleggiata perché tutta quante questa sala ha due o tre finestre e poi comunque sia oltre essendo una villa si vedevano gli arancetti quindi insomma doveva essere una scena molto bucolica e questa doveva essere un'immagine straordinaria della naturalezza costruita proprio come una messa in scena da Bernini ecco quindi che nel momento in cui quasi per fare un piacere a Bernini lo si nobilita portandolo all'interno di una sala come si faceva per le opere antiche in realtà Bernini poverino perde il suo effetto il suo controllo cos'è che perde però Bernini? torniamo alla nostra alla nostra Bibiana perde innanzitutto il controllo della luce cioè forse è mio? no no io l'avevo spento allora perde innanzitutto il controllo della luce cioè se voi vedete un'opera come questa dovete immaginare che Bernini nel fare la sua nicchia e nell'immaginare la sua statua immagina che può dominare una luce cioè dall'alto e in questo modo crea un effetto visivo dove non c'è più soltanto un problema appunto di mimesi cioè di naturalezza ma c'è proprio un problema di coinvolgimento dello spettatore dallo spettatore un punto di vista fisso eccetera e questo è un tema bernignano un tema bernignano che per l'altro era già presente alla Borghese ma è un tema bernignano che per esempio è evidentissimo all'interno di un'opera come la la Santa Teresa per esempio ed è un tema addirittura se noi vogliamo di un bernini che sa osservare i punti di riferimento intorno a lui per cui per esempio quando si trova a Parigi con Chantelou dice l'illuminazione migliore per le statue è quella del pantheon dall'alto con la luce dall'alto quindi è un bernini che ha sperimentato questo illusionismo che è nato anche ovviamente come un controllo della luce e allo stesso tempo ovviamente anche implica come dire un rapporto con lo spettatore di tipo privilegiato e soprattutto di tipo anche fisso cioè in effetti perché i due problemi come dire dell'opera sono appunto questo da una parte lui appunto nel momento in cui io stabilisco una luce per l'opera stabilisco anche un punto di è più facile se io stabilisco un punto di fruizione unico cioè questo controllo come dire dello spazio dello spettatore diventa una cosa che permette a Bernini di avere un dialogo diretto con lo spettatore di porlo come dire non più in movimento intorno alla sua opera ma statico poi ovviamente questo deve essere anche calibrato nel fatto che in questo caso qui ci sono sicuramente più vedute significative non c'è solo una veduta una veduta unica però l'effetto di come dire meraviglia dell'opera nel momento in cui si entrava nella sala di certo doveva tenere in considerazione appunto questi punti di vista e l'altra cosa che noi invece adesso per chiudere dobbiamo un attimo ripensare è invece per questo tema di Galileo buttato lì così all'inizio perché in fondo questo Bernini giovane che gira dentro alla cappella Paolina in Santa Maria Maggiore tra l'altro voi sapete anche comunque lo studio poi di Bernini era vicino del padre era vicino a Santa Maria Maggiore quindi insomma questo Bernini che sta lì che gioca che esce che lavora col padre che impara un po' da tutti ecco probabilmente si trovava in un cantiere in cui non è detto che non fosse a conoscenza di un'opera di una lettera importante è una lettera che viene scritta da Galileo a Ludovico Cigoli forse proprio spronata da Cigoli del 1612 in cui si chiede a Galileo di esprimersi sul problema se è più importante la pittura o più importante la scultura allora questo caso effettivamente viene risposto da Galileo che l'importante sostanza il suo cioè come dire il concetto è questo l'importante non è la pittura l'importante non è la materialità dell'oggetto quindi pensate tutto il discorso che abbiamo fatto anche sulla luce finora ma l'importante è la nostra visione cioè questo è sostanzialmente la risposta che dà questo ha ovviamente delle conseguenze per esempio lui dice tanto è falso che la scultura sia più mirabile della pittura per la ragione che quella abbia il rilievo e questa no che per questa medesima ragione viene la pittura a superare di meraviglia la scultura in perciò che quel rilievo che si scorge nella scultura non lo mostra come scultura ma come pittura mi dichiaro intendersi per pittura quella facoltà che col chiaro e con lo scuro imita la natura quindi a un certo punto come dire in questo testo che poi va avanti quello che fa Galileo proseguendo su una linea che è molto leonardesca è quella di annullare il valore tattile della scultura lui dice sostanzialmente mi interessa che la scultura abbia o non abbia rilievo quello che mi interessa è che io percepisco il rilievo come chiaro come scuro e questo lo posso fare con ancora maggiore finzione nella pittura che non lo finge veramente il rilievo quindi ecco che a questo punto come dire la scultura viene messa quasi come arte meccanica non arte intellettuale come vuole Leonardo e così via e quindi aggiunge a queste cose e ciò sia il vero per esperienza stessa che ce lo dimostra perché se sportiamo ad un lume una figura di rilievo e aderemo in modo colorendo col dare lo scuro dove sia il chiaro cioè se io prendo una figura di rilievo e dove vedo lo scuro e dove vedo il chiaro gli metto lo scuro sinché il colore sia tutto unito questo rimarrà priva di rilievo cioè come dire se io se il valore non è tattile cioè se io non devo andare a toccarla l'opera ma la devo solo vedere e se davanti a un'opera io vado in un'opera che è un chiaro scuro vado a nerire i chiari vado a nerire gli scuri in modo che sia tutto uniforme allora che vantaggio è cioè qual è il merito della scultura è molto migliore la pittura che riesce a fingere questo colore ovviamente quest'idea di una scultura non tattile non è un problema che venga risolto facilmente nel 600 e fa appunto dice non ha la scultura a rilievo per essere larga lungo profonda ma per dove è chiara e dove è scura per Galileo questo è un problema appunto di percezione ovviamente e poi anche in un altro passo dice appunto diciamo nulla per così dire appunto questo valore tattile la cosa non è talmente ovvia che evidentemente come dire nel 600 proprio intorno agli anni 30 abbiamo molto questa costruzione questa immagine invece dello scultore cieco che tocca per esempio l'opera e che riesce a essere scultore anche se non vede perché ha il senso del tatto cioè è un tema come dire quasi che viene speso di contrappeso rispetto a questa tematica a questo argomento galileiano e il nostro Sandrat sempre lui cioè sempre questo tedesco appunto che viaggiava ed era amico di Rubens che aveva visto Bernini per esempio racconta un aneddoto che ha una tradizione tedesca credo però racconta questo aneddoto in cui dice che lo straordinario Michelangelo essendo per la tarda età diventato cieco non potendo più lavorare poteva ancora però per sollievo del suo animo ricco di virtù lasciarsi condurre davanti a queste statue del bel vedere e lì vista la loro perfezione toccarle tastarle con le mani da sotto in su e tutto intorno e dopo averle fra le braccia strette fra le braccia addirittura baciarle quindi diciamo il tema come dire galileiano del fatto che la scultura non è importante per il rilievo vero che ha ma per la percezione visiva che ottiene ha come dire un contraccolpo anche in questa tematica che invece riemerge cioè dello scultore che lavora con le mani che sente con le mani ovviamente il tema è amplissimo arriva fino a Herder e ha l'idea che come dire ci possano essere sensorialità diverse a seconda delle arti cioè questo è un po' con la nel 1778 con Herder l'altro aspetto è però ancora peggiore cioè la scultura è ancora peggiore rispetto alla pittura perché la scultura in realtà non è che finge la realtà questa è l'accusa di Galileo la scultura raffigura la realtà e questo è il punto come dire su cui tocca sul vivo poi Bernini perché Bernini che ancora non esiste cioè questa è la polemica e questa è come dire la sfida in qualche modo finalmente gli scultori copiano sempre i pittori no e quelli che imitano le cose come le sono e questi come le appariscono quindi attenzione perché questo è un argomento che viene speso come dire c'è una natura c'è un artificio i pittori sono più artificiosi perché devono creare di più a questo punto è ovvio che come dire i mondi che si aprono sono quelli di una pittura per esempio anche la possibilità se uno vuole fingere come dire e utilizzare il colore era una possibilità cosa che ovviamente Bernini non perseguita cioè assolutamente non può perseguire è interessante però perché nell'ottocento quando credono molto in un Bernini naturalista c'è anche qualcuno che dice ma perché non ha dipinto le statue se voleva essere tanto naturalista cioè il problema è il colore e la scultura diventa un problema invece no Bernini non fa sculture colorate anzi ci sono degli aneddoti in Chanteloup in cui dice ma qualcuno mi aveva detto che dovevo raffigurare gli occhi della proserpina con il nero per farli sembrare veri e io ho detto di no non ridendo perché mi sembrava un atto di un naturalismo servile rispetto alla pittura allora qual è la risposta di Bernini che cerca un artificio che cerca un modo di dare un'autonomia alla scultura evidentemente lui lo dice nel diario di Chanteloup ed è un passo bellissimo bellissimo e purtroppo al contrario del problema dei punti di vista che è stata una costruzione come dire degli storici dell'arte dopo per cercare di capire le peculiarità di questa messa in scena berniniana in questo caso qui abbiamo forse uno dei passi più belli del Bernini teorico cioè Bernini dice parlando della scultura e delle difficoltà che si incontrano per riuscirvi specie nei ritratti marmori e per ottenere la somiglianza mi ha detto una cosa notevole che poi cioè mi ha detto è questo Chanteloup che riporta e che poi ha cioè Bernini ripetuto ad ogni occasione che se qualcuno si tingesse di bianco i capelli pensate questo è il tema proprio galileiano capovolto se qualcuno si tingesse di bianco i capelli la barba le sopracciglia e se fosse possibile le pupille e le labbra e si presentasse in questo stato anche quelli abituati a vederlo ogni giorno stento saprebbero riconoscerlo a prova di ciò ha aggiunto quando una persona impallidisce il solo pallore che si diffonde sul suo volto fa sì che quasi non la si riconosca più e spesso si dica non par più d'esso e dunque ha concluso molto difficile ottenere la somiglianza in un ritratto marmorio quindi non è vero che è più difficile essere dei pittori è più difficile essere degli scultori perché io parto come dire da una cosa che è bianca e devo riuscire da lì a creare una somiglianza senza il colore cioè la sfida è che a questo punto la scultura accetta la sfida rinuncia al colore però deve lavorare solo nei limiti del chiaroscuro e come si fa? non con la naturalezza infatti dice in un ritratto marmorio che è tutto di un colore ha detto poi una cosa più interessante che talvolta in un ritratto di marmo bisogna per ben imitare la natura fare quello che nella natura non è quindi non è un esercizio naturalistico non è una lesione bisogna creare un artificio con la propria arte che abbia come finalità ovviamente quella di creare un'altra cosa rispetto ovviamente alla natura quindi un primato della visione che diventa veramente uno strumento di una insuperabile di uno strumento di un inganno degli occhi ma soprattutto continua questo sembra un paradosso ma lo ho spiegato così per rappresentare il colore scuro che alcuni hanno intorno agli occhi questo è il caso sicuramente dello scippione borghese è il più bello bisogna scavare nel marmo il punto dove è questo scuro per rappresentare l'effletto e supplire con questo artificio per così dire al difetto dell'arte della scultura che non può attribuire il colore alle cose la natura è diversa dall'imitazione quindi questo è più o meno il percorso possiamo chiudere ok